Devo dire che è stato un anno davvero fortunato e incredibile, un anno che non mi scorderò, che mi ha regalato davvero la possibilità di iniziare a sognare realmente e concretamente, quindi la vincita X-Factor e subito dopo ecco un po' le porte della musica che si aprono. Sono felicissimo perché chiaramente X-Factor è stata una palestra immensa, ha fatto conoscere a me stesso un lato che davvero non avevo ancora visto e ha portato fuori un Lorenzo molto più pronto a quello che può essere una carriera, quindi mi aspetto cose belle da quest'anno. Il mio è un genere non facile ma che davvero dei grandi come il grande Luciano Pavarotti ha iniziato, questo genere crossover che abbraccia la musica lirica e la musica pop. Credo che ecco debba essere un genere trattato un po' con le pinze perché è un genere che arriva diretto al cuore delle persone ma va amato e quindi non bisogna mai schierarsi troppo né da una parte né dall'altra. Devo dire che ecco io lo sto cercando di fare davvero in punta di piedi e quello che anche un po' stasera farò che sarà questo omaggio al grande maestro vuole significare proprio questo ecco arrivare alla musica forse tra virgolette un po' troppo impegnata per arrivare al cuore delle persone direttamente. Quindi sicuramente è un ruolo importante, è un ruolo difficile ma lo si fa col cuore. Maestro Luciano sicuramente rappresenta tantissimo per me, rappresenta un po' quello che è stata la mia scelta di vita musicale. Ho iniziato a studiare musica lirica proprio grazie a lui, alle sue registrazioni, anche al suo modo di come si approcciava alla musica classica. Ricordo sicuramente qualche avvenimento in particolare quando ascoltavo le registrazioni in estate, in cameretta, magari in tarda notte e riuscivo a rimanere davvero estasiato e con le lacrime agli occhi perché questa voce mi entrava, mi faceva capire davvero che era questo il genere con cui potevo davvero esprimermi. Beh, stiamo lavorando al nuovo disco e sono molto contento che insieme a me ci sarà Nicoletta Mantovani e sono veramente felice di avere accanto una persona che ha creduto tantissimo in questo genere, ha avuto accanto davvero un esempio unico e sono felicissimo che abbia scelto di accompagnarmi in questo percorso. Quindi sicuramente lavoreremo a questo disco. E poi c'è in programma anche un film che uscirà dopo l'estate, sarò il protagonista, un bellissimo film per bambini, quindi ci sono delle bellissime cose in ballo.